Salve, sono Cristian Cinelli da Ferenze. Da questa esperienza sinceramente sono partito un po' più tovanto, con molti dubbi, però mi hanno sia amici e famiglia spinti a fare questa esperienza perché sicuramente mi porterà sia a livello personale, sia a livello, penso, proprio a livello di vita, un'emozione, comunque un'esperienza che uno non fa tutti i giorni. Alla fine di questo viaggio sicuramente conoscendomi mi vedrò carico perché io parto sempre piano, parto sempre pieno di dubbi, però dopo un'esperienza del genere penso di essere carico e soddisfatto. Sinceramente è andato molto bene, molto meglio di come mi aspettassi. Pensavo di uscire con una scarica di adrenalina avvicinante, ce l'ho, però sono proprio grandillo perché sono soddisfatto di quello che ho fatto, di quello che mi hanno detto, di tutte le esperienze. Sono in pace con me stesso, lo posso dire. La settimana sinceramente io sono partito abbastanza fiduamente, pieno di dubbi, sono proprio partito così perché io fino all'ultimo ero indeciso, mi hanno spinto amici, parenti, clienti a dirmi vai, è un'esperienza, va un'esperienza, non posso che ringraziarli. Sono partito ma anche perché è un mio carattere, inizio molto fiduamente, molto più chiuso e invece dopo, non so di aver fatto una scelta giusta, sono contento, porterò a casa comunque sia un'esperienza importante.